in programma sabato sulla leggendaria Streif. Lo svizzero Daniel Albrecht è stato protagonista di una drammatica caduta sul salto finale che immette sul traguardo, atterrando sulla schiena alla velocità di 140 km orari, battendo la testa e restando poi immobile dopo un volo di una quarantina di metri. Subito sono scattati i soccorsi, il vallesano ha perso i sensi ed è rimasto privo di coscienza durante tutte le operazioni di soccorso. Vista la gravità delle sue condizioni, Albrecht è stato trasportato in elicottero all'ospedale più vicino, quello di San Johan. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni di salute nelle prossime edizioni del telegiornale.